Conoscere e farsi conoscere, la Regione Abruzzo e tutti i suoi componenti indicano con cadenza mensile incontri aperti alla cittadinanza. Saranno quattro ogni mese, uno per ogni diversa provincia e proprio nei palazzi provinciali verranno svolti. L'idea è quella di ascoltare dalla voce dei cittadini di servizi, necessità e priorità del territorio. Non solo il Presidente incontrerà i cittadini, ma tutto l'esecutivo regionale, i direttori delle strutture, i rappresentanti degli enti e delle società della Regione, cioè tutti coloro che rappresentano Regione Abruzzo nel suo complesso. Incontreremo le famiglie, le imprese, i territori, i cittadini almeno una volta al mese nelle sedi istituzionali delle province. Si inizia il 23, ogni eletto è diviso su base territoriale, ogni rappresentante istituzionale. È l'occasione per porre fine alla Regione della distanza, quella che è una finzione, perché hanno troppo finto per troppo tempo che questa fosse una Regione, noi dobbiamo farla diventare una funzione. Per fare in modo che ciò accada è necessario incontrare l'utenza, non solo per raccontare, ma per ascoltare e poi per farsi controllare. Una Regione che non finga, ma si renda punto di riferimento e di condivisione con il territorio e così a partecipare agli incontri saranno anche tutti i direttori delle strutture, ASL, ARPA, oltre a tutta la Giunta regionale. Noi immaginiamo appunto il nostro ente come una funzione, per esempio una sponda per risolvere i problemi con altri livelli istituzionali. Credo che questo sia l'indirizzo che il Presidente D'Alfonso abbia dato sin dall'inizio. Non si tratta solo di raccontare ciò che facciamo noi, ma si tratta di co-decidere con chi vive, abita, investe sui territori.